Preoccupato per quello che viene definito un taglio indiscriminato della pronta disponibilità del personale infermieristico in alcune unità operative della ASL-BAT. Preoccupazione che il presidente del collegio Ipasvi della sesta provincia Giuseppe Papagni ha manifestato anche ai dirigenti della ASL in attesa che sulla questione arrivi una risposta rassicurante perché quel taglio indiscriminato anche se solo presunto al momento avrebbe ricadute negative sulla qualità dei servizi erogati nelle unità operative. Mentre prima l'organizzazione era affidata a degli infermieri che davano la propria disponibilità e quindi all'interno dei presidi ospedalieri per eventuali trasferimenti di pazienti in altri presidi o consulenze e quindi non andando ad intaccare per nulla la dotazione organica appunto in quella unità operativa adesso invece l'infermiere dovrà lasciare l'assistenza infermieristica e quindi dovrebbe appunto staccarsi per poter accompagnare il paziente per la consulenza quindi ovviamente questo si ripercuote sulle carenti dotazioni organiche e ripeto già risicate dalla mancanza assenza di figure di supporto. In attesa di decisioni ufficiali Papagni auspica che la ASL-BAT possa vedere la decisione adottata sempre che venga confermata perché il conto più salato in termini di assistenza lo pagherebbero i cittadini. Al momento non c'è pervenuta nessuna risposta però siamo fiduciosi insomma di avviare anche su questo aspetto su questo punto un dialogo con i dirigenti appunto per capire quali potrebbero essere le conseguenze sulle prestazioni appunto che poi vengono erogate ai cittadini sulla qualità.